Musica Margherita Bui, siamo qui per 7 donne e un mistero, ci presenti il tuo personaggio? Il mio personaggio? Sì, sono la moglie di quello che causa tutta questa storia che a un certo punto muore e quindi poi sono un capofamiglia e ho tutta questa famiglia, questa strana famiglia che mi svelerà e anch'io dovrò svelare dei grandi segreti all'interno di questa storia. Qual è la chiave vincente di questo film? Speriamo che sia vincente, ma appunto sono 7 donne ed è una cosa molto bella e spero che le donne abbiano questa voglia di ritrovarci in ogni presentazione. Perfetto, grazie mille e bocca al lupo!